Buongiorno, poter invecchiare significa avere una chance ulteriore nella vita. Il mio libro propone consigli, illustre opportunità per poter invecchiare bene, se è possibile. Vuole dare informazioni anche per fare scelte difficili, affrontare momenti dolorosi, avendo le conoscenze di base per poter scegliere. Perché questo è stato il mio obiettivo, parlare di nuove strade, presentare esperienze e riflessioni di vita, la mia in questo caso, dedicata ai servizi per anziani, stimolare sempre e comunque l'impulso a guardare all'oltre per non farsi lasciare indietro, perché questo sarebbe veramente un rischio molto molto grave. Buona lettura.